Good morning Juventus. Tutti quanti noi stiamo aspettando la partita di dopodomani, sabato alle 19, all'Université Stadium contro l'Arsenal. Solo che purtroppo passano i mesi, passa il tempo, ma Pogba non è pronto. Chiesa non verrà convocato perché è un ressentimento. Vlaovic continua a lottare contro la Poubalgia. Kostic non è ancora in forma anche se è rientrato ieri. Praticamente manca mezza squadra, anzi tre quarti di squadra, perché poi ci sono i brasiliani che sono ancora in ferie, gli argentini che sono in finale quindi chissà quando torneranno, e 99 su 100 ci sarà anche il discorso di vedere i giovani che possono essere aggregati o meno. Insomma, in poche parole, chi come me, spero anche come voi, aspettava la Juventus il 17 di dicembre per avere un'idea di una nuova Juve, di una Juve 2.0, purtroppo dovrà aspettare ancora. E non è detto, e non è detto, purtroppo, che il 4 di gennaio avremo quasi tutta la rosa a disposizione. Perché, ripeto, quelli del mondiale che sono andati avanti ovviamente resteranno a lungo ancora, diciamo, in ferie e quindi rimarranno poi pochi giorni per prepararsi ed essere pronti per la Cremonese. Non dimentichiamoci che alla ripresa del campionato pronti via abbiamo tre partite in una settimana. Abbiamo la Cremonese fuori casa, poi abbiamo l'Udinese in casa, poi abbiamo il Napoli fuori casa. E sono partite importantissime, perché se vogliamo dire la nostra lotta scudetto, fra virgolette, è chiaro che non possiamo sbagliare. Ora, se noi ci presentiamo a Cremona o con l'Udinese, che sono due squadre sulla carta che possiamo battere, che però magari hanno fatto una preparazione completa, perché la Cremonese non aveva nessun giocatore mondiale, l'Udinese non aveva nessun giocatore mondiale, quindi si sono preparati. E sapete bene che quando ci sono le ripartenze, le squadre che pagano sempre pegno, sono quelle che hanno giocatori impegnati nei nazionali. Avviene in estate dopo gli europei, i mondiali o la Nation League e avviene ovviamente anche in questo caso. Per cui sono molto preoccupato, non sto mettendo le mani avanti, lo dico prima, non sto mettendo le mani avanti. Sono preoccupato, sono preoccupato perché Pogba tutte le volte che sembra pronto ci sono sempre dei contrattempi. Chiesa si allena due o tre giorni, poi però sente dolore. Chiesa ragazzi, sarà tanta roba se farà 15 partite, da qui alla fine. Se farà 15 partite sarà tanta roba. Stesso discorso vale per Pogba. Poi è chiaro, se ne faranno di più, io sarò l'uomo più felice del mondo. Però non dimentichiamoci che noi abbiamo quattro partite del girone d'andata da fare. Tutto il girone di ritorno, che sono 19. La Coppa Italia, che come minimo almeno due turni speriamo di farli. E almeno due partite di Europa League, sperando ovviamente anche di passare il turno. Quindi le partite sono tante e abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo Vavo Natale. Chi crede a Vavo Natale? Anche a chi non ci crede perché è meleitario. Bisogna chiedere che i giocatori delle Juventus stiano bene. Non ce ne frega niente del mercato. Il mercato di gennaio non ce ne frega niente. Io non so neanche se farò delle rubriche. Magari darò notizie, se ci sono notizie da dare. Ma non farò neanche la rubrica che tengo sempre da giugno ad agosto. Perché? Perché la Juve non può permettersi di andare a spendere soldi quando ha dei giocatori importantissimi da recuperare. Ripeto, Vlaovic da recuperare, Kostic da recuperare, Pogba da recuperare, Chiesa da recuperare. Avete detto niente. E poi ovviamente ci sono anche quei giocatori reddici del mondiale che devono recuperare fisicamente. Fino adesso, iniziano il cielo, i tre rimasti non si sono fatti male. Arrabbio di Maria e Paredes, anche se di Maria un po' acciaccato. Comunque insomma, all'Argentina e alla Francia rimangono pochissime partite, no? Giusto? Poche. Una. Bene, rimane una partita. Quindi noi adesso dobbiamo veramente incrociare le dita, invocare l'idea del calcio, perché questa, più che la Juventus mi sembra l'infermerentus, veramente, l'infermerentus. Cioè, è una roba... Io vorrei che il 2023 cambiasse un po' questa prospettiva, perché, vedete, molti hanno dato la colpa a Folletti e prima davano la colpa a quello che c'era prima e prima ancora a quello che c'era prima. Io credo invece che alleggi qualche cosa intorno alla Juventus, come una sorta di aura nera che è ovatta tutto. Chissà che magari se Alcan veramente si decide una volta per tutte a venderla a Juventus, arrivi qualcuno, magari fortunato, che ne so, la Apple, Bezos di Amazon, non so, chi volete voi? Non mi interessa. Importante che finisca questa brutta, diciamo, aura nera che ci circonda e che ci porta ad essere sempre molto... come dire... non siamo mai la Juve vera. Cioè, la Juve vera l'abbiamo vista poche volte, signori, poche volte. C'era l'anno scorso, ma quest'anno. Quest'anno la Juve vera non l'abbiamo mai vista. La Juve è stata concepita in un modo. Questa è forse una delle poche cose giuste che ha detto Nedel prima di andarsene. È stata concepita in un modo, ma quella concezione non è mai stata messa in campo. Perché per vari motivi non ci siamo mai riusciti. Lo stesso Di Maria, che è un giocatore fondamentale se sta bene, ha fatto meno partite di quello che ci si potesse immaginare. Quindi, poi, come tornerà dal mondiale? Con quale voglia? Con quale spirito? Con quale forma fisica? Staremo a vedere. Io, francamente, sono un po' preoccupato. Ripeto, non è manavantismo il mio. Lo dico soprattutto per chi non è juventino o per chi pensa che io dico queste cose per mettere appunto le mani avanti. No, non è manavantismo. È che sono preoccupato perché vedo che il tempo passa, ma i problemi restano sempre gli stessi, purtroppo. Good morning, Juventus.